Buon pomeriggio, benvenuti al webinar dell'iniziativa Lesher dal titolo La didattica del latino per padronanza e la certificazione delle competenze di lingua latina le piattaforme Alatin Academy e Alatin Lyceum Interverrà Matteo Poero, Matteo da anni si occupa di digitalizzazione della didattica nell'ambito umanistico nel 2012 insieme ad Adriano Allora ha fondato i My Autical Labs primo centro di ricerca in Italia per web app e tutoring sulle lingue classiche ideatore e creatore tra gli altri di Cloud Schooling, Alatin, Itaca tutte piattaforme di apprendimento con oltre 25.000 studenti attivi e 100.000 sessioni di lavoro mensili mi sembra sia tutto, vi auguro un buon webinar e lascio la parola a Matteo Allora, buonasera a tutti, grazie di aver partecipato a questo webinar e so che in questo periodo ci sono tanti webinar e quindi non è facile seguirli tutti e d'altra parte è una delle poche soluzioni che abbiamo per mantenere i contatti con voi e per spiegarvi insomma le modalità con le quali si possono usare le piattaforme come la nostra in questo tangente. Questo webinar è nato prima in teleemergenza e quindi inizialmente aveva un taglio sicuramente più metodologico io ho preferito dargli una provatura un pochino più applicativa perché so che in questo momento non avete la possibilità di confrontarvi diviso con i vostri studenti o quantomeno insomma sempre comunque a distanza e che d'altra parte alcuni problemi come quello sulla valutazione per esempio è un tema molto sentito perché valutare i ragazzi a distanza è molto complicato magari poi parleremo anche di questa circolare che è uscita da 388 del ministero che dà alcune indicazioni su quella che potrebbe essere la valutazione a distanza in sostanza questo webinar si occuperà di tre aspetti quindi come portare avanti il programma con Alatin quindi considerando anche quello che è stato fatto precedentemente prima dell'emergenza e di consolidamento il ruolo dei prerequisiti e i nuovi argomenti che andate trattando nei limiti delle possibilità che ci sono in questo momento di trattare nuovi argomenti con i ragazzi la valutazione di questo lavoro che è comunque un aspetto centrale di Alatin e che è molto sviluppato in questi anni e anche una piccola parte su come si risolvono i problemi principali perché il problema è che non avendo i ragazzi come dire in classe a volte risolvono i problemi a distanza anzi senza volte è sicuramente più complesso e quindi c'è un pochino più di attenzione anche nel supporto della nostra assistenza partiamo da quello che è il cuore di Alatin cioè il suo diciamo così principio metodologico Alatin è un software che si fonda, si basa su quello che si chiama apprendimento per padronanza che è sintetizzabile con un principio di fondo non passo a un argomento successivo prima di aver dimostrato come studente una padronanza sufficiente di quello precedente ora questo significa sostanzialmente che il monitoraggio su Alatin è fondamentale quindi la valutazione su Alatin è fondamentale una valutazione che non si intende soltanto in termini meramente sommativi, voti ma una valutazione che, come dire, tiene conto sia di quello che gli studenti percepiscono dei propri progressi, del proprio andamento la valutazione che si tratta formativa cioè la capacità degli studenti di rendersi conto del punto in cui sono noi in questa macchina dà una grossa mano e chiaramente anche la valutazione sommativa che, come dire, insieme a quella formativa da questo punto di vista probabilmente, anzi, probabilmente i massimi risultati i migliori risultati che abbiamo avuto con Alatin sono quelli che si hanno mettendo insieme queste due cose quindi da una parte i compiti con la valutazione formativa e dall'altra le verifiche con quella sommativa i compiti per noi, dentro questa piattaforma, vengono chiamati unità ma non sono niente di più e niente di meno che gli argomenti poi affrontati normalmente in un laboratorio di latino quindi le declinazioni, i complementi, le proposizioni, eccetera unità segmentate per argomenti in alcuni casi addirittura sotto argomenti poniamo la terza declinazione che non viene fatta tutta insieme ma viene fatta chiaramente tra tutti e dall'altra parte, invece, a livello di, appunto, di votazione sommativa le verifiche le verifiche sono assimilabili a o delle interrogazioni, possiamo chiamarle così o a delle verifiche di grammatica sono sostanzialmente nei momenti sommativi in mezzo ci sono le versioni perché in mezzo? perché in realtà lo strumento versioni in Alatin potete usarlo sia per l'una che per l'altra cosa cioè sia a un patito formativo per formare i ragazzi sia per verificarli se, appunto, ponete la versione in un certo momento temporale poniamo mercoledì dalle 10 alle 10 e mezza alle 10 e 40 ok, sono evidentemente più brevi le nostre versioni o sempre quelle su carta e a quel punto avranno sicuramente più valore sommativo partiamo dalle unità che sono veramente in cuore di Alatin io ho fatto questo schemino perché in questi giorni avendo tanti nuovi docenti che sono entrati la plataforma è cresciuta, pensate, del 350% nelle ultime 3-3 settimane quindi un aumento quasi esponenziale in linea con le direttive di chiusura delle scuole però spesso noi non riusciamo sempre a monitorare che i docenti a cui abbiamo detto ci sono le guide, ci sono le guide video abbiano effettivamente letto queste guide ecco, io non faccio l'insunto di tutte le guide però questa è un'indicazione che c'è sulle guide io trovo molto importante il numero di unità settimanali nel senso che vediamo dei docenti che entrano in piattaforma, fanno la classe e poi aprono tutte le unità aprono decine di unità ecco, serve a poco serve a poco perché in realtà aprire tutto al fin fine significa molto probabilmente trovarsi con dei studenti che non faranno nulla o comunque che faranno poco invece è molto importante fare poche unità per volta però monitorare che queste unità vengano fatte e chiaramente come monitorarle? valutandole, c'è un sistema interno che adesso vi faccio vedere per valutare anche i compiti a caldo ovviamente il carico di lavoro dipende anche un po' strettamente da quelle che sono le ore curricolari anche se in questi momenti è difficile fare le scansioni orarie molto precise però è vero che tendenzialmente un classico da noi assegna 5-6 unità alla settimana il linguistico intorno alle 2 lo scientifico tra le 3 e le 4 le scienze umane intorno alle 2-3 unità settimanali se vi fosse capitato di non sapere ancora bene queste cose e di aver dato molte unità potete chiedere all'assistenza che ve le de-assegnino cioè sostanzialmente se avete fatto il passo più lungo della gamba non c'è problema possiamo noi deselezionare queste unità in modo tale che voi possiate poi partire con un numero di unità come dire più contingentato e più ragionevole rispetto poi ai risultati che volete che cos'è un'unità su Alatin? un'unità su Alatin sostanzialmente è un pistolotto di esercizi che in prima battuta somiglia molto a quello che potrebbe essere un compito a casa tradizionale poniamo un esercizio su qualsiasi testo di occhi, danducci, blocchini anche il nostro ok? di una dozzina di frasi una decina di frasi adesso non so quanti tendenzialmente siete deputati a darne però probabilmente è un esercizio di questo tipo ora l'unità parte da questo principio che in partenza tutti quanti devono fare almeno una dozzina di esercizi di analisi e di traduzione come avviene nei compiti a casa cosa fa la macchina di bello e di diverso rispetto ai compiti su carta? beh, intanto differenzia questi esercizi studente per studente cioè nessuno studente avrà gli stessi esercizi che avrà il suo compagno saranno esercizi della medesima difficoltà perché gli autori di Alatin hanno usato dei modelli di esercizio che hanno difficoltà analoghe ma il testo sarà differente quindi saranno già esercizi differenti in partenza in termini di qualità ma poi è anche importante la quantità cioè da noi è importante questi 12 esercizi in partenza per ogni lezioncina questi ragazzi li facciano corretti quindi poniamo una unità come la prima declinazione che è un'unità evidentemente molto semplice avrà 5 lezioni ciascuna delle quali avrà 12 esercizi di base ovviamente queste 5 micro lezioni sono di difficoltà crescente quindi i ragazzi dovranno fare prima quelle più semplici per poi passare a quelle successive però in ogni ognuna di queste lezioni è fondamentale per lui per passare all'argomento successivo quindi per passare alla lezione successiva ok che facciano correttamente almeno 12 esercizi se non fanno correttamente questi 12 esercizi cosa fa la macchina cosa fa Aladdin allora la cosa interessante è che oltre ad avere esercizi diversificati il lavoro su altri è un lavoro cosiddetto per obiettivi cioè loro devono ogni volta che sbagliano un esercizio di questi 12 fanno un altro la macchina gli somministra un altro fino a quando non arrivano a 12 e quando arrivano a 12 quelli che hanno sbagliato devono essere corretti cioè lui subito vedrà la risposta alla domanda che ha che sta avendo in quel momento se questa risposta è negativa se ha sbagliato vedrà qual è la soluzione corretta dopodiché però quell'esercizio alla fine dei 12 famosi gli verrà riproposto perché dovrà correggere ora questo fa sì sostanzialmente che se io sbaglio 6 esercizi cioè sostanzialmente la metà degli esercizi di unità sarò tenuto a fare 24 esercizi complessivi perché lui mi darà 6 nuovi quindi saranno 6 step nuovi 6 esercizi nuovi per farmi arrivare a 12 ok dopodiché però dovrò correggere gli altri 6 quindi 12 più 6 più 6 24 questo principio così mi rendo conto apparentemente complesso in realtà è piuttosto semplice poi ve lo farò vedere concretamente su un lato studente per come viene presentato però qui è importante capire quale sia il metodo di fondo il metodo è il principio di fondo è non puoi tirare a casa cioè non solo io ho esercizi differenti da quelli che ha i miei compagni ma se comincio a tirare a casa non ne esco più e lui continuerà a dargli esercizi quindi è fondamentale poniamo se sono al quinto esercizio ne ho sbagliati 4 a quel punto fermarmi guardarmi la teoria che ho in linea quindi sulla stessa pagina rispetto all'esercizio e poi riprendere in modo tale che il mio numero di errori diminuisca e io evito di andare avanti a fare esercizi altrimenti che cosa succede? succede che lui continua a darmi esercizi quindi man mano che aumentano gli errori aumentano anche gli esercizi questa cosa per lo studente alla fin fine è di immediata percezione perché c'è una bandina verde che va avanti se faccio bene o indietro se faccio male devo concentrarmi devo alzare il livello dell'attenzione andiamo a vedere concretamente come vengono strutturate queste unità così le faccio anche vedere e questo discorso metodologico sarà più chiaro appunto di vista e che ci fa a questo punto siamo dentro la piattaforma come docente voi avete ottenuto un accredito docente come tra l'altro molti di voi hanno già e siamo all'interno della piattaforma completamente sbloccata nel senso che se siete dei docenti tutto quello che è pubblicato tutto quello che è disponibile voi lo vedrete mentre se siete degli studenti ovviamente no perché sarete voi i docenti poi a sbloccare ai ragazzi volta per volta quello di cui hanno bisogno vediamo innanzitutto l'unità vi dicevo l'unità è un po' il cuore di Aladin è la base quello che fondamentalmente rappresenta il lavoro principale e quello più svolto più usato le unità vengono scandite all'interno del sillabo in maniera abbastanza tradizionale c'è una prima parte una prima missione fatta di unità che fanno da cerniera con la scuola media quindi ripasso dei principali elementi di grammatica italiana poi c'è la fonetica e la questione verbale e poi comincia invece da parte di latino vera e propria questa prima questa prima unità è quella che i ragazzi possono provare anche senza che voi gli assegnate dei compiti cioè è libera per tutti anche un po' per prendere di mistichezza in qualche parte mentre a partire dal latino vero e proprio a quel punto sarete voi a indicare loro che cosa fare volta per volta immaginiamo di voler assegnare unità come la prima declinazione lui ve lo ingrandisco un po' lui vi permetterà di capire qual è il tempo stimato complessivo in questo caso parliamo di circa 75 minuti però vi dice anche di quante pausa o di quante lezioni è fatta questa unità sono 5 quindi sono più o meno 15 minuti a lezione voi potete provare queste lezioni in ordine sparso però sappiate che nel momento in cui voi le assegnate a quel punto i ragazzi dovranno partire dalla prima e man mano passando dalla prima alla seconda sbloccare le unità successive e questo chiaramente perché? perché ogni unità è di un livello leggermente più difficile di quella precedente quindi il principio dell'apprendimento per padronanza come vi dicevo prima è quello di far sì che per passare a un argomento successivo io devo dimostrare una padronanza sufficiente dell'argomento precedente immaginiamo di prendere subito una lezione più difficile in modo tale che vi rendete anche conto qual è la difficoltà massima di questa unità questa unità è una unità semplice come la quinta quando voi entrate dentro come studenti lui vi darà un esempio di come è l'interfaccia studente di come di quali sono gli esercizi che fanno i ragazzi ora è chiaro che questi esercizi questo esercizio nella fattispecie potrà sì che capiti a uno e potrà sì che non capiti all'altro il principio di base è che la difficoltà media di questi esercizi è uguale per tutti però poi ognuno farà esercizi in proporzione diversa a seconda delle sue effettive necessità dentro questa maschera dentro questa come dire questa unità come vedete ci sono alcuni elementi che sono come dire importanti da scolineare allora innanzitutto quella bandina verde lassù cosa vuol dire? quella è la progressione vuol dire questa è la unità che io avevo già cominciato quando l'ho ancora finito quindi ogni volta che io entro dentro un'unità posso fare degli esercizi posso eventualmente anche uscire dall'unità ma lui rimane sempre a lui rimane sempre in memoria quello che io ho fatto questo è molto importante perché alcuni ragazzi pensano che uscendo dall'unità Adin perde i dati perde il loro progresso no non è così lui si ricorda sempre chi sei e il punto in cui eri a questo punto io però devo progredire perché per arrivare alla fine dell'unità dovrò rispondere a domande fino a che questa bandina verde non sarà completata nelle tipologie di domande potete vedere insomma parecchie parecchi tipologie di esercizi ci sono esercizi di analisi ci sono esercizi di traduzione in entrambe le direzioni quindi sia dal latino all'italiano sia anche dall'italiano al latino però attenzione il fatto di farli tradurre in due direzioni da una lingua all'altra e viceversa per noi è fondamentale non tanto per una presunta come dire bontà della traduzione dall'italiano al latino ma perché gli facciamo tradurre le stesse frasi o comunque frasi molto vicine tra di loro a livello lessicale e questo serve semplicemente per rafforzare il lessico il lessico dentro l'unità di Adin è frequenziale e quindi fa sì in una sostanza che loro rivedano le parole su cui stanno lavorando più e più volte all'interno di una stessa unità più e più volte all'interno della stessa missione e poi di livello in livello il modale è che ci sia una sorta di bombardamento che poi in realtà è il vecchio e il solito ripetita jubant e che però gli aiuti a familiarizzare con le parole il lessico loro ce l'hanno peraltro nella modalità appunto di verifica formativa in linea se voi vedete qui loro hanno non solo in questo caso la traduzione lemmatica chiaramente non è ancora quella plessa ma anche la declinazione perché? perché è la prima volta che vedono la prima declinazione quindi noi gli forniamo anche le tabelle di declinazione quando però ovviamente passeranno la seconda declinazione gli daremo le tabelle della seconda ma non più quelle della prima perché? perché si dà a questo punto per scontato che quelle della prima nel frattempo le abbiano metabolizzate ok? quindi loro hanno come dire un set di strumenti che gli permette di lavorare in autonomia senza il dizionario ma concentrandosi con quello che devono fare se fanno bene ovviamente possono provvedire se sbagliano che cosa succede? succede viene data una soluzione chiaramente viene impostato il perché hanno sbagliato e gli viene dato un altro esercizio fino a che questa bandina che in questo momento non si è mossa perché io ho sbagliato non arriverà fino alla fine quindi il principio di base è che ciascuno lavori secondo le proprie effettive necessità cioè se io dimostro di conoscere in questo caso gli elementi della prima declinazione riesco a progredire altrimenti ovviamente me ne devo andare a studiare ecco dove vado a studiarmi cioè se io sono al quinto esercizio di questi esercizietti e devo andarmi a guardare la prima declinazione perché evidentemente ne ho sbagliati quattro e quindi non so come dire come proprio dire cosa devo fare qui in alto a destra ho la teoria qui c'è tutta la teoria che riguarda la prima declinazione non è un insunto non è un bigname è proprio quello che gli serve ovviamente non sono pagine e pagine nel caso della prima declinazione e nel caso di argomenti più complessi piuttosto noi come dire scorporiamo per esempio la terza declinazione scorporiamo i simboli gruppi ma questo serve un po' da problem solving cioè se io non riesco evidentemente a passare il livello a superare l'ostacolo la soluzione è di sopra io devo fermarmi guardarmi la teoria e ricominciare a questo punto potrò ricominciare da un esercizio simile come in questo caso un esercizio inverso cioè qui devo prima analizzare ok analizzare la frase vediamo un po' eccolo qua complemento di mezzo e poi lo step successivo nel frattempo la bandina sarà leggermente avanzata tradurre questa in questo caso è una traduzione libera ci sono traduzioni libere ci sono traduzioni guidate nel quale come per esempio numero uno nel primo esercizio che ho fatto che ho fatto vedere io devo comporre la traduzione con dei traducenti che sono in calce ovviamente anche qua i traducenti che ci sono in calce non necessariamente sono tutti utili per comporre la traduzione anzi tendenzialmente vengono inseriti degli inquinanti dei traducenti non corretti ma l'introduzione di questi traducenti non corretti non è fatta dalla macchina c'è un autore che ha deciso di mettere quelle parole e in genere lo fa appunto considerando l'argomento poniamo se io sto lavorando sulla prima declinazione questi traducenti questi falsi traducenti saranno traducenti che riguardano l'aspetto nominale il plurale piuttosto che il singolare ovviamente nel caso in cui ci siano traducenti nominali c'è eventualmente anche un verbo che passa al singolare al plurale cioè noi facciamo sì che le soluzioni anche nelle traduzioni guidate non siano così scontate non ci sono mai come dire degli elementi che non servono davvero a nulla e questo perché perché ci interessa che i ragazzi capiscano capiscano e soprattutto come dire decifrino in qualche modo la traduzione e vadano a completarla nel momento in cui io arrivo alla fine della lezione passerò alla lezione successiva fino a che non compongo non finisco l'unità e quindi quando vi si dice che l'unità è fatta di 75 minuti significa semplicemente che 75 minuti è il tempo che in questo caso Analytics Stima per noi e il tempo che uno studente ci metterà a fare tutta l'unità cioè le 5 lezioni previste può farne due e poi fermarsi può farne una e poi fermarsi l'importante è che a scadenza anche a questo punto le faccia la cosa più importante di questo tipo di esercizio che è molto diversificato è molto adattivo si adatta ai singoli studenti e che poi voi andate a monitorare quello che date loro e da questo punto di vista è fondamentale che appunto voi conosciate gli strumenti di monitoraggio parliamo degli strumenti di monitoraggio vediamo un po' vediamo in questo caso una classe che abbia già lavorato ok a cui io assegni qualche cosa prendiamo una classe come questa ok e vedete intanto come comincia a popolarsi questo sillabo questa che noi chiamiamo dashboard di una serie di simboli ora il simbolo probabilmente più evidente e più frequente che vedrete è questa campanella quando voi assegnate unità cosa succede? succede che l'unità viene sbloccata viene assegnata agli studenti quindi sull'osilove si vedrà sbloccata e a quel punto diventa un compito tutte le unità che io vi dicevo si danno non niente ai valimenti con scadenze settimanali quindi 5 o 6 per il classico 3 o 4 per lo scientifico eccetera sono niente di più niente di meno che queste campanelle quando voi prendiamo unità che io non ho ancora assegnata questa sul lessico quando voi date un'unità che cosa fate? andate eventualmente a vedere qualche esercizio all'interno a livello di campione e poi cliccate su assegno lui vi chiederà se siete convinti a questo punto quando l'unità è stata assegnata con successo vedrete che in calce comparirà un tasto il tasto è il tasto che vi permette di monitorare come sta andando quell'unità ovviamente io non vado a vedere questa perché se io cliccassi su questa vedrei probabilmente una situazione in cui nessuno ha ancora fatto nulla perché chiaramente io l'ho appena assegnata andiamo a vedere invece un'unità che io ho già assegnato per capire un po' come si può leggere il dato di monitoraggio prendiamo il dato di possesso che in genere è un argomento già un po' spinoso perché pur essendo un argomento abbastanza semplice qui viene stimato su 30 minuti quindi sostanzialmente due lezioncine una un po' più difficile una un po' più facile e una un po' più difficile comunque produce già qualche difficoltà andiamo a vedere l'andamento e qui vi dice come è andata l'unità in questo caso avete una sintesi a sinistra in questo caso io avevo 26 studenti in 26 hanno completato l'unità se aveste qualcuno in corrispondenza dell'orologino significerebbe semplicemente che questa persona o queste persone hanno fatto una delle due lezioni ma non hanno completato l'unità se invece aveste qualcuno in corrispondenza del trattino vuol dire che non hanno mai cominciato quindi voi già a scadenza immaginiamo io do l'unità per lunedì prossimo lunedì potrete andare a vedere anche domenica come sta andando cioè se hanno effettivamente quanti hanno effettivamente completato quanti sono a metà e quanti invece non sono ancora aperti il dato forse più interessante e più importante però in questa in questa tabella è la percentuale degli errori perché perché se questo dato sostanzialmente vi dice che il ragazzo ha fatto tutti i compiti e quindi ha già lavorato in proporzione rispetto alle sue effettive necessità la percentuale degli errori vi dice non tanto quanto ha fatto ma come l'ha fatto allora questa percentuale voi potete filtrarla potete ordinarla in ordine crescente in ordine decrescente e vedete che c'è qualcuno come Anna che non ha fatto alcun errore quindi si è fatta in due lezioni in sostanza 12 più 12 24 esercizi e c'è chi invece sbagliando ha dovuto fare più esercizi c'è chi ne ha sbagliato circa 1 e mezzo su 10 14% chi ne ha sbagliati il 22% cioè circa 2 su 10 e via dicendo c'è come vedrete chi arriva a sbagliarne 6 barra 7 su 10 ora questa persona è come questo caso in questo Daniele T evidentemente in difficoltà però vadate in qualche modo dalle sue difficoltà ne è uscito che sostanzialmente lui ha lavorato molto più dei compagni e posto anche che magari in alcuni esercizi abbia tirato a caso si è reso conto di aver fatto molti più esercizi degli altri ora io andrò a valutarlo su questa unità no non si valuta mai un'unità per volta ma si valuta il trend cioè se io do 3 o 4 unità per volta mi aspetto che Daniele nel passaggio da un'unità all'altra lentamente riduca il suo numero degli errori perché? perché uno gli conviene dal punto di vista dei tempi ci mette molto meno se ha il livello dell'attenzione due ai fini della valutazione ovviamente il fatto di averlo fatto in questo caso col 60% come dire migliorerà se lui la prossima la farà come dire puntando al 40% al 30% se invece continua a rimanere sul 60% degli errori anche in questo caso quasi il 70% e ovviamente la sua valutazione ne risentirà quindi la valutazione formativa perché badate questi numeri sono numeri che i ragazzi vedono cioè i ragazzi sanno chiaramente dove sono arrivati in termini di unità completate ma sanno anche quanti errori hanno fatto e quindi sostanzialmente la percentuale degli errori gli serve per misurarsi soprattutto se quello che conta come vi dicevo non è tanto la singola unità come sempre sulla singola unità ma il trend infine c'è una colonna che si chiama XP punti esperienza e molti chiedono cosa sono gli XP l'XP è come dire una misurazione mettiamola così una cosa che noi diamo ai ragazzi per misurare non tanto come dire il loro andamento sulla singola unità ma il loro complesso il complesso del lavoro che hanno fatto su Alting cioè i punti esperienza crescono sono come un punteggio di gioco che man mano che io completo esercizi va crescendo non è un dato che a voi interessi tanto in termini ai fini della valutazione perché io posso fare eventualmente più volte un'unità a quel punto Alting che cosa farà a quel punto Alting sa chi sono quindi scarterà gli esercizi che io ho già fatto me ne darà altro io potrò aumentare il mio punteggio ma non è detto che aumentando il mio punteggio io riesca a migliorare nettamente come dire la mia faccia in quale degli errori quindi in buona sostanza quello dei punti esperienza è un indice un termometro della costanza ci sono ragazzi molto come dire costanti molto di buona volontà ecco che magari faranno più esercizi ma non necessariamente sono più bravi dei loro compagni che sbaglieranno quindi se vedete come dire dei casi in cui avrete prendete questo insomma Daniele ha in tutto 50.000 punti ma questo non vuol dire ok che sia più bravo di chi come in questo caso Valentina ne ha 34.000 ha fatto nella sua esperienza nel complesso dell'unità che ha rivolto su Alting ha fatto più esercizi ma evidentemente è uno che più inizialmente sbaglia anche di più quindi è più appunto un'indicazione della non dirò motivazione ma della buona volontà a voi serve per avere una catena di tornasole perché ovviamente se io ho uno studente che è in difficoltà ma mostra di avere fatto tanti esercizi vuol dire che tutto sommato alla fine dell'anno o alla fine di un quadrimestre potrò tenerne infine vediamo gli errori frequenti che cosa sono gli errori frequenti? sono un campione degli esercizi che hanno generato più errori cioè quando vediamo un come in questo caso andamento dell'unità in realtà a voi non serve sapere gli esercizi che hanno fatto tutti anche perché diventereste diventereste pazzi cioè se noi vedessimo il listato di tutti gli esercizi considerando che sono esercizi diversi sia in quantità che in qualità che hanno fatto tutti non ne uscireste più noi vediamo i primi dieci esercizi che hanno registrato presso di loro perché chiaramente gli esercizi tornano girano ok il maggior numero di errori a voi cosa serve questo questo dato? serve per capire più o meno quali sono state le difficoltà principali considerando comunque che se sono arrivati alla fine dell'unità hanno comunque svolto il loro compito ci sono comunque arrivati a sono arrivati a fare quello che dovevano fare quindi è in realtà importante anzitutto che loro completino le unità e questo già come dire da una proporzione del lavoro sul singolo individuo e poi chiaramente è importante come le hanno fatte cioè la percentuale degli errori se però voleste usare poniamo durante questi giorni di streaming o anche chiaramente quando si spera si tornerà a scuola volete provare a vedere con loro un campione di questi esercizi che sono andati peggio in una decina di minuti in un quarto d'ora e la cosiddetta di colorazione a campione ecco gli errori frequenti servono esattamente a quello andiamo andiamo a vedere a questo punto date un certo numero di unità ok immaginiamo di aver dato 5 unità come si fanno a valutare nel senso che quando vi ho detto le unità non si valutano singolarmente ovviamente questo non significa che le unità non si valutano in assoluto significa che si valutano a gruppi si valutano come quelle che si chiamano appunto verifiche formative man mano che io do settimanalmente le unità posso alla fine della settimana ogni due settimane valutare queste unità come faccio a valutare le unità questo è appunto forse il punto principale di questa prima parte del webinar vado sul menu a ovetto dove ci sono tutte le funzioni gli alati in questo caso avrò una voce classi che è quella dove voi avete tutto il lavoro svolto tutto lo spaccato del lavoro svolto e prenderò la classe che mi interessa se avete più di una classe ovviamente sceglierete quella che vi interessa prendiamo per esempio la terza a terza a classico qui lui ci mette un po' a caricare vi farà vedere tutte le unità che sono state assegnate a questa classe dall'inizio cioè è il registro complessivo di tutte le unità in questo caso sono parecchie unità nel senso che sono 202 in questo caso Gioia le ha fatte tutte gli altri invece sono chi ha 150 chi ha 180 eccetera 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 questa è una terza quindi verosimilmente ha fatto tre anni di lavoro e poi si è interrotta ovviamente qui potete vedere a differenza dell'andamento sul singolo argomento potete vedere invece un po' l'altra faccia della medaglia cioè l'andamento del singolo studente quindi prendiamo poniamo uno che ne avete fatte di meno ok per esempio questo Alessandro ok se se o Daniele ecco Daniele che era il nostro studente di prima lui anche qua ci metterà un attimo a caricare perché sono tanti dati vi farà vedere unità per unità che cosa che cosa è successo vi farà vedere innanzitutto se l'unità è stata completata vedete che alcune Daniele le ha completate su altre invece rimaste indietro e poi vi farà vedere la percentuale degli errori di ogni singola unità quindi voi avete già un'idea abbastanza come dire compiuta di quelle che ha fatto di quelle che non ha fatto in questo caso insomma Daniele ne ha fatte alcune ma non ne ha volte tante uno di quelli appunto dal punto di vista messi in pezzo come si fa a valutare questo lavoro chiaramente è un lavoro che si valuta man mano non si valuta tutto insieme diciamo che alla fine della settimana X alla fine della settimana prossima io voglio fare una valutazione sulle prime cinque unità se io clicco su valuta a questo punto lui mi farà vedere tutte le unità che io ho dato quelle che ho assegnato chiaramente mi farà vedere quelle che non ho assegnato con tanto di data questa è una cassa molto vecchia nella quale io ho fatto questa ho fatto l'assegnazione ho assegnato l'unità e mi chiede e mi sta chiedendo quale unità vuoi valutare immaginiamo di valutare tutta la seconda declinazione perché io questa settimana ho fatto con loro tutta la seconda declinazione quindi selezionerò le unità che mi interessano darò come titolo della valutazione seconda declinazione scusatemi oggi con la tassia sono in l'asca declinazione ok e poi gli dirò crea a questo punto lui che cosa farà mi farà una valutazione specifica di quelle cinque unità quindi caricherà un po' di dati andrà a vedere quello che è stato fatto da Tizio quello che è stato fatto da Caio insomma fa un buon numero di calcoli perché in questo senso la macchina deve tenere conto di un sacco di informazioni deve tenere in conto di quante chi è arrivato dove deve tenere in conto di chi non ci è arrivato deve tenere conto delle percentuali che ha fatto Tizio e che ha fatto Caio quando vi arriva e sappiamo che arrivi la eccola qua arriva la valutazione voi avrete però uno spaccato molto dettagliato vi dirà quando è stata creata vedete che ve la mette dentro il come dire questo tab che si chiama valutazioni quindi diventerà poi facente parte del vostro archivio e se voi ci cliccate sopra a quel punto vedrete come è andata e tutto sommato questa per carità è una carta di liceo classico sulla seconda definizione che è un'unità piuttosto semplice è andata bene se io clicco su ogni singolo studente mi dirà come è andato questo studente o come è andata su ogni singolo aspetto cioè su ogni singola unità dell'argomento seconda definizione l'unità l'ascosta definizione era un argomento che cubava 4 unità sotto unità ciascuno delle quali probabilmente aveva 4-5 lezioni quindi in questo caso Alice che ha una media molto alta ha fatto bene tutto il lavoro questo è un dato alla più in fine che chiaramente varierà molto nel senso che quando io andrò a valutare unità più avanti più difficili ovviamente la facoltura degli errori comincerà a salire la valutazione sarà più bassa però vi permette di come dire tenere tenere guardia di osservare di monitorare i ragazzi in maniera molto capillare e praticamente in maniera molto frequente nel senso che potete chiaramente fare una volta al mese ma potete fare anche una volta alla settimana di fatto i dati lui li ha tutti e quindi per voi si tratta di pochi clic ovviamente questo potenzialmente è un dato da mettere a registro ecco perché viene messo come dire un po' sempre stampa perché voi potete archiviare questa valutazione e tenerne conto poi nel senso che potrà essere considerata come una valutazione formativa quindi l'insieme di più valutazioni dell'unità darà come risultato un voto o darà come risultato più voti o darà un consultato per l'orale sta di fatto che vi permette di valutare in maniera provante perché provante? perché in questo caso potete essere abbastanza certi che ciascuno abbia fatto i suoi esercizi certo in questi momenti in questo frangente possono essersi ripatti fare tutti dal fratello o dal cugino però auguri insomma cioè il lavoro sarebbe enorme di fatto quello che non è successo che è molto 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 che succeda è che si passano le domande perché? perché banalmente hanno domande diverse e hanno quantità di esercizi diversi ciascuno ecco io qui farei una pausa perché questa è la prima parte più grossa quella che riguarda appunto la verifica formativa prima di introdurre la verifica sommativa cioè le verifiche ed eventualmente le versioni che stanno un po' a metà vi chiederei se avete delle domande e se nel caso possiamo dedicare una decina di minuti a rispondere a queste domande non so se Anna Chiara mi puoi supportare? sì certo Matteo ti segnalo già alcune domande la prima è di Pierangela che chiede se in previsione qualcosa di simile per il greco ok rispondo a una sola oppure facciamo sì ti segnalo se vuoi anche una seconda Anna Lisa chiede se fosse possibile scorporare in qualche modo gli esercizi di traduzione dall'italiano a latino allora provo a rispondere sì ok vuoi dammi ancora una o no possiamo andare così ti lascio anche quella di Claudia quante unità consiglia di sottoporre a valutazione 4 o 5 ok allora la prima domanda è una domanda che ci pongono spesso quando ci sarà qualcosa del genere per il greco il problema è che ci potrebbe già essere ma il vero ostacolo è l'investimento e il finanziamento Atin è una piattaforma che è nata nel 2015 e tuttora siamo arrivati all'ultima missione quindi proprio all'orazio obliqua per intenderci ha cubato più di 60.000 esercizi perché? perché per far sì che questi ragazzi abbiano tutti quanti esercizi diversificati noi dobbiamo creare una montagna di esercizi ma non ci possiamo solo limitare a farne una montagna ma anche mantenerli cioè far sì per esempio che a livello di varianti di traduzione siano sempre più ricchi siano sempre più performanti quindi il lavoro è un lavoro enorme la piattaforma in questo momento potrebbe essere come dire potrebbe generare una sorella di Greco però il numero di esercizi che servirebbe non è tanto diverso quindi ci vogliono investimenti molto grandi siamo in una fase di fundraising quindi probabilmente non è escluso che nei prossimi anni non ci si pensi però il problema è che la produzione editoriale di una piattaforma del genere è molto diversa da quella di un libro se un libro voi trovate mediamente un libro cartaceo intendo considerando anche le eventuali espansioni online circa 1500-2000 esercizi qua ce ne sono 60 volte insomma 40-60 volte tanto il privilegio come dire il valore aggiunto di questa piattaforma è quello che questi esercizi in realtà vengono appunto manutenuti ma vengono stati per tracciare anche le domande questi 60.000 esercizi hanno tracciato complessivamente quasi 80 milioni di risposte e queste risposte ci servono per migliorare la piattaforma per far diventare sempre più performante la domanda che riguarda il numero di assegnazioni medie per unità io il numero di unità medie per pautazione io direi che tra 4 e 5 non c'è sostanzialmente differenza voi potete ora gruppare per ordine temporale quindi tendenzialmente una settimana due settimane un'esercizio in modo tale che ci sia un intendimento vostro con i docenti molto chiaro sappiate che alla fine di questa unità ci sarà una valutazione potete usare un ordine temporale appunto a settimane o bisettimanale o addirittura mensile oppure potete usare un sistema semantico cioè come in questo caso tutta la seconda declinazione qui dipende un po' dal punto del programma in cui siete certamente meno di 4 o 5 secondo me non sono troppo indicative perché perché è difficile poi in 4 o 5 vedere eventualmente il miglioramento che fanno gli studenti noi abbiamo studiato insomma l'andamento degli errori in un anno cioè abbiamo visto classi che lo usavano per un anno intero abbiamo fatto capire come si muovevano la diminuzione delle classi degli errori in una classe standard in un anno quindi parliamo allo scientifico di circa 60 70 unità ok forse anche qualcosa in più e al classico si arriva a 100 110 insomma e più o meno tra il 15 e il 25 per cento cioè i ragazzi riducono il numero degli errori man mano che vanno avanti in questa percentuale ovviamente dipende anche un po' dal punto del come dire dall'anno in cui sono sa che il programma di seconda è più complicato di quello di prima quindi prima di dire il miglioramento può essere meno sensibile ma è comunque molto evidente ed è evidente soprattutto per quelli che sono così più borderline cioè quelli bravi sicuramente ci fanno meno fatica e arrivano a potenziare in maniera molto evidente quelli borderline secondo me sono quelli in qualche modo più interessati dalla piattaforma perché? perché sono quei ragazzi che stanno tendenzialmente tra il 5 e il 6 o addirittura il 5 e il 7 però fanno come dire fanno fatica a emergere e invece come dire ci mettono poco ad andare giù per questi e ci è stato detto in più di un'occasione è stato in più di un'occasione in stata vita almeno per quello che riguarda in questo caso il credito il debito a settembre c'era ancora una domanda se non sbaglio però mi sono perso non mi sono segnato la domanda Anna Chiara scusami era la seconda dunque quindi ieri è la seconda no è risposto a quante unità consigli le unità da questo fuori la valutazione esatto allora se è possibile scorporare in qualche modo gli esercizi di traduzione dall'italiano al latino allora come vi farò vedere adesso nella nella come dire nella seconda parte del webinar che riguarda le verifiche in fase di verifica è certamente possibile scorporare il latino in italiano da quello in italiano al latino nelle unità no ma in realtà no perché non perché siamo perversi ma perché quelle che loro vedono le frasi in entrambe le direzioni sono le stesse frasi quindi in buona sostanza quello che si punta a fare nell'unità anche per esempio quando io devo analizzare e tradurre dall'italiano al latino è A che abbia forte l'italiano l'analisi dell'italiano serve in come dire in prospettiva per il latino e B che sappia come dire in qualche modo fotografare il lessico ok in modo tale che se la stessa frase io la tradotta dal latino all'italiano poi il passaggio della traduzione al latino sia più un passaggio come dire meno sintattico e più lessicale mi spiego i ragazzi fanno molta fatica a come dire ad ascoltare la lingua latina ci sono certe cadenze come tendenzialmente il parco al fondo come il genitivo che precede il nominativo a cui appartiene che se instillati cioè se in qualche modo verificati se esercitati in queste unità poi gli rimangono quindi la nostra finalità non è assolutamente quella di farli tradurre poi delle versioni dall'italiano al latino non ci sono versioni dall'italiano al latino in Atim ma è quella di familiarizzare con il lessico e nella letteratura sull'argomento si dice molto chiaramente una cosa è un po' quello che è il pezzo di didattica del latino che viene dal nord Europa che c'è in Atim Atim è una piattaforma molto tradizionale in termini di analisi e di traduzione quindi la docimologia di Atim è molto tradizionale la tradizione è didattica in compenso quello secondo me è l'aspetto più interessante che si può prendere che si può mutuare dall'esperienza nord europea e cioè se io imparo a tradurre anche inversamente anche in questo caso l'italiano al latino accende una parte del cervello che è appunto quella più proattiva che a sua volta sollecita molto più efficacemente la memoria lessicale ed è uno dei motivi per cui come dire nelle lingue vive non si insegna ovviamente a tradurre non di tanto ecco nella età che delle lingue vive non si fa ma se voi guardate le piattaforme di lingua viva come duolingo come babbel sono molto incentrate sulla traduzione inversa per un motivo lessicale cioè se io imparo a scrivere in latino anche piccole frasi sostanzialmente mi ricorderò molto più semplicemente il lessico e qui non so se ho risposto quindi ovviamente nelle unità non si può perché fa parte del metodo proprio intanto è che alla fine di una missione alla fine delle unità di una missione c'è proprio una parte lessico si può ovviamente in fase di verifica come vi farò vedere perché in fondo ripeto a noi non interessa verificare tanto la loro abilità nella traduzione dal italiano al latino si interessa però che loro riescano a riconoscere un 40 un 50 un 60% del lessico a cui vanno incontro nel passaggio dal diegno al triegno ed è fondamentale questo perché in qualche modo è stato anche intercettato dalla cosiddetta certificazione di lingua latina dove non si chiede a parte nel caso del livello B2 mai tradurre tanto meno dall'italiano al latino però si chiede questo sì si dà per scontato anzi una certa parola del lessico il problema dei ragazzi è che io ho delle punte di ginnasio che durante le versioni in classe mi cercano parole come duco parole come capio ora non è che non sappiano cosa vuol dire duco cosa vuol dire capio ma probabilmente a casa l'uso del dizionario è più estemporaneo e quando arrivano in classe non avendo più la rete non avendo più un supporto lessicale il dizionario diventa un po' l'amico nemico cioè diventa quello a cui tu ti devi come dire affidare in toto spesso senza saperlo usare in maniera propria quindi io credo che i ragazzi debbano imparare non a non usare il dizionario ma a usarlo come cognizionario di causa se mi cerchi duco se mi cerchi duco evidentemente il motivo non è che tu non sai cosa vuol dire duco ma che sei ormai totalmente come dire dipendente dall'idea di andare a cercare ogni parola che alla fine mi cerchi anche parole di cui in realtà tu sai già il significato quindi io credo che nella tassonomia anche in quella di Bloom che è il padre dell'apprendimento per padronanza il passaggio tra conoscenza e memoria non sia un passaggio casuale io credo che oggi come oggi la memoria sia effettivamente soggetta sia stimolata da un cambio antropologico le carte di oggi non sono ovviamente più stupidi di come eravamo noi ma hanno probabilmente un sistema nemonico diverso o comunque fanno altri giri per ricordare io dico sempre che se Alatim se gli daciti che diamo loro in Alatim loro li facessero sulla carta sarebbero come dire dei mostri nel senso che si ricorderebbero dieci volte tanto il problema è che non usciremo mai a fargli fare questo numero di esercizi sulla carta nessuno mai li farebbe voi pensate che in questo momento in Alatim chi ci lavora settimanalmente appunto con due tre settimanali arriva a fare senza grandi problemi 350 esercizi in un mese ora ma chi è che dà 350 esercizi in un mese sulla carta in latino ci sarebbe una mezza rivoluzione quindi io credo che da questo punto di vista la produzione inversa non sia poi come dire così malvagia anzi dal punto di vista elesticale è molto importante il punto è quando poi io devo andare a verificare posso scegliere se tenerla oppure no questo sì questo è assolutamente leggi allora Monica chiede come poter simulare una prova scritta da valutare in modo sommativo il problema della valutazione emerge soprattutto a seguito domande molto molto pertinenti così introduco il discorso sulle verifiche che è decisamente come dire più sommativo allora le verifiche su Alatin ovviamente non sono differenziate da studente a studente non potremmo fare questa cosa perché? perché non sarebbe lecita e gli studenti si ribellerebbero nel momento in cui faccio un compito in classe questo compito in classe deve sostanzialmente quello che fa anche un mio compagno quindi noi non ci possiamo permettere seppure dal punto di vista dei contenuti non ci manchino di dargli esercizi differenziati allora noi che cosa facciamo? sostanzialmente diciamo ai docenti fissate un orario che è un orario che è come dire che rispecchia quello delle verifiche cioè quello che lui stima come tempo vi faccio vedere come immaginiamo che io voglia dare una verifica ecco prendo una classe che non ha tante verifiche come questa qua sono sulla pagina sono sulla pagina principale ok sceglierò ovviamente da questo menu a tendina la classe a cui mi interessa dare una verifica qui ogni classe ha il suo sillabo ha i suoi compi altre verifiche alle sue versioni e immagino di dare una verifica per esempio ecco sul primo livello sulle unità che riguardano l'ultimo livello qui sono io a scegliere in mo' sostanza quali sono gli elementi che metterò in verifica immaginiamo che io voglia mettere la prima definizione quindi clicco su prima definizione le particolarità e poi voglio anche però metterci tutto l'indicativo presente quindi in tutto io avrò 4 unità lui mi dirà in questo carrellino di quanto tempo è la verifica più o meno una mezz'ora e qui posso effettivamente scegliere quello che chiedeva la collega prima se fare le verifiche soltanto dal latino all'italiano a quel punto avrò un numero di domande inferiori una ventina e potrò eventualmente aggiungere se voglio arrivare a una mezz'ora altre unità oppure tenere anche le domande inverse entrambi questo tempo è quello che mi preme dirvi questo tempo è proprio fondamentale rispettarlo cioè se io dico ai ragazzi bene venerdì facciamo una verifica la facciamo alle 10 cosa faccio? io magari la verifica me la proverò prima me la proverò nei minuti prima o il giorno prima qui posso provarla quindi vi farò vedere una prova però è importante dire loro bene alle 10-5 10-10 ci incontriamo alle 10 la apriamo e la chiudiamo alle 10.35 cioè la chiudiamo nei tempi magari con un agio di qualche minuto che lui mi stia a quel punto lui che cosa farà? immaginiamo di dare questa verifica venerdì alle 10-5 io la apro quindi la assegno ok e lui allo studente che cosa farà vedere? farà vedere che è comparsa una un tasto verifichi come c'era sulla mia pagina principale è comparso anche lui con un bel pulsante fai la verifica e lui verrà calato esattamente qui dentro cioè avrà una serie di esercizi che sono quelli che sono stati previsti per la verifica ora come dire come facciamo a garantire che questi esercizi non vengano copiati? beh in due modi sostanzialmente posto che sono gli stessi esercizi uno non vengono dati nel medesimo tempo a tutti quanti cioè l'ordine con cui vengono somministrati è randomico quindi io a seconda insomma della verifica che ho avrò gli stessi esercizi ma in un altro ordine due ed è fondamentale questo io non ho un feedback se io qui sbagliassi poniamo questa è una frase dal bellegiano al latino da analizzare che poi veniva evidentemente chiesto di tradurre come vedete lui non mi ha dato il feedback se io qui sto andando avanti andando avanti senza rispondere correttamente ma io non so se sto facendo bene o male allora se andiamo a mettere insieme queste due cose cioè i ragazzi non sanno quale domanda in quel momento hanno hanno più o meno abbiamo detto un minuto a domanda ma questa è una tasca ve lo stabilite voi non è che ci sia un timer lui vi ha dato mezz'ora indicativamente ok ma questo non vuol dire che non potete se avete una classe particolarmente virtuosa tagliere meno tagliere per esempio in 25 minuti ok considerate che Alatin è tarato più o meno sul un 60% di liceo scientifico un 30% di liceo classico un 10% sparmato tra scienze umane e linguistiche quindi state voi poi a stabilire qual è il tempo a seconda delle verifiche di prova della verifica di prova che farete se io studente però non so cosa sto facendo esercizi che ho sono uguali a quelli del mio compagno è difficile che in un minuto o anche meno riesca a passargli la domanda anche perché me la rischierei io cosa faccio devo rispondere devo rispondere come se fossi durante in una verifica in classe certo potrebbe esserci la mamma pronta lì a fare la verifica questo chiaramente è difficile stabilirlo in questi momenti voi immaginate queste verifiche pensate immaginate per essere svolte in classe però io vi dico onestamente non è poi così probabile che tutti quanti si facciano sistematicamente in quella solita in politica altro perché se hanno fatto le unità che in qualche modo rispecchino questi esercizi è un discorso ma se come dire un aiuto potrebbero averlo da persone che non hanno mai visto niente mi è difficile che poi questo aiuto sia effettivamente valido se io non so rispondere questo è importante piuttosto che rispondere a caso perché ripeto ognuno non è un feedback posso saltare la domanda cioè nelle verifiche c'è un tasto in più che non c'è nelle unità questo tasto in più consente di saltare la domanda fino eventualmente ad arrivare alla consegna quando sarà ora di consegnare a quel punto lui mi chiederà vuoi riprendere le domande che hai saltato oppure vuoi consegnare ora questo è fondamentale perché quello che diciamo ai ragazzi è di non tirare mai a caso cioè se tu non sai una risposta la salti piuttosto poi chiaramente devi amministrare un po' il tempo sai che entro le dieci e mezza viene chiusa la verifica e quindi magari alle dieci e venti se arrivi alla fine e hai ancora tempo ti puoi riprendere le domande che hai che hai che hai come vedete nella verifica non c'è il lessico in linea e quindi è importante fare le unità ed è importante immagazzinare il lessico perché poi che sia una domanda come in questo caso dall'italiano al latino che sia che voi avete deciso di mettere soltanto le domande dal latino all'italiano il lessico è importante perché anche qua ogni minuto è difficile che io possa andare a ravanare sul dizionario sì lo posso fare non è che poi ti cambi molto ma perdere il tempo sulle domande successive non c'è il lessico e non c'è chiaramente neanche la grammatica qui c'è il più salito di assistenza se avesse un problema tecnico ma non c'è la grammatica quindi per sintetizzare le verifiche a cosa servono? servono per vedere a distanza di due settimane tre settimane il tempo che voi stabilite se le unità che come dire hanno fatto a casa e che voi avete valutato in chiave formativa effettivamente abbiano poi prodotto dei risultati se la verifica va molto bene troppo bene ecco secondo me le spie sono due o avete dato troppo tempo quindi c'è stato troppo troppo tempo ok una mezza giornata piuttosto che a di tua da un giorno all'altro oppure e che è l'altra faccia della medaglia c'erano troppe poche cose in qualche modo in quel tempo lì da vedere e quindi il tempo che avevano a disposizione per la singola domanda era eccessivo hanno avuto troppo tempo la verifica di una piattaforma che sostanzialmente è comportamentista come questa è in qualche modo un test comportamentista cioè nel momento in cui io vedo una traduzione vedo una frasetta di una due righe poi chiaramente le verifiche più avanti diventeranno più più difficili devo rispondere come dire non dico intuito ok però devo essere pronto e quindi sarò pronto se io a livello sintattico a livello lessicale sarò pronto per rispondere questo è molto importante io direi provate la verifica prima di darla fate anche semplicemente un'azione campione però poi cercate di darla nel tempo che è stato stimato o addirittura se avete risultati troppo alti in un tempo inferiore io consiglio sempre di fare così peraltro prima di dare la verifica vera e propria di fargli provare a fare una verifica come dire di prova anche solo su una unità in modo tale che loro in qualche modo familiarizzino con la piattaforma familiarizzino con questa dinamica nel senso a differenza delle unità che vengono aperte e quindi vengono aperte e si lasciano fare nei tempi che voi stabilirete ma non c'è una chiusura dell'unità le verifiche hanno un'apertura e una chiusura che è molto tassativa perciò se io dico ragazzi facciamo la verifica venerdì la abbiamo alle 10 e alle 10.30 ritiro al momento di ritirare la verifica a quel punto lui chiuderà le verifiche per tutti quindi chi non l'avesse ancora consegnato è come se la metaforica fosse ancora in classe con il foglio bianco in mano quindi per lui la verifica è in bianco e fondamentale che loro sappiano che alle 10.30 devono consegnare devono consegnare tassativamente perché altrimenti il risultato è che non gli andiamo a considerare e a valutare anche gli esercizi che hanno svolto correttamente non hanno fatto tutta la verifica non importa salteranno le domande che non hanno ancora svolto e consegneranno quello che hanno svolto quando prima fare una assegnazione io decido che questa è la verifica la composizione della verifica da assegnare ok quindi sono 4 o 5 possiamo metterne ancora ancora una unità o due così faccio anche il sistema del perfetto di cui sono 50 minuti a mio modo di idea sono fin troppi probabilmente la verifica migliore sta intorno ai 30 35 massimo proprio 40 minuti però poi stabilite voi quante cose mettere dentro e poi la assegno nel momento in cui assegno ci sarà un alert che dirà sei insicuro guarda che se lo fai ovviamente allora comparirà il tasto verifica quindi occhio non assegnate una verifica la sera prima perché a quel punto allora si apre la sera prima quindi perde un po' la sua funzione potete farlo sul momento gli direte di sì e lui se ne andate gli dice che va bene è andata così e poi vi mette la verifica in calce eccola qua con gli argomenti con un bel tasto ritira vi dice quando è stata posta questa verifica e vi chiede la possibilità di ritirare ora il ritiro ripeto è un'azione che va fatta a come dire a scadenza magari danno anche 5 minuti in più ma va fatta perché se voi non ritirate non avrete mai i risultati d'altra parte è fondamentale che loro sappiano quando voi ritirate perché se loro prima del vostro ritiro non hanno ancora consegnato il foglio rimarrà in bianco quindi la soluzione secondo me è stabilire un tempo noi non abbiamo messo un timer perché risulta difficile per una classe avere le stesse performance dell'altra quindi un tempo sarebbe davvero troppo stringente c'è un tempo stimato voi tenete conto di questo tempo stimato e fate una prova cioè darete una verifica di prova anche soltanto con una unità per capire qual è la logica ai ragazzi la volta successiva sarà la verifica vera e propria quando voi ritirate adesso chiaramente questa è una verifica che ho fatto adesso quindi se la ritirassi non troverei risultati andiamo a vedere una verifica invece di una classe che ha già svolto una verifica per capire che cosa sono come si vengono invece i risultati che ovviamente sono diversi da quelli che si vedono nelle unità perché qui la dimensione non è più formativa ma è sommativa poniamo la verifica del livello un pochino più avanzato non so poniamo la verifica ecco una verifica del livello 6 qui c'è più che perfetto la legge dell'anteriorità eccetera vediamo qui quante verifiche sono state fatte quante invece appunto sono ancora questa è un'unità è un livello dove vedete io ho già tutte le unità quando io le unità le do da verificare diventano grigine cioè vuol dire che io quelle unità le ho già tutte verificate non è detto che voi verifichate tutte le unità verifichate sostanzialmente quelle che avete assegnato verosimilmente ma il sillabo è un sillabo libero quindi potete in tutto e per tutto insomma darvi scegliere scegliere voi sia quelle unità sia le unità che poi metterete in verifica ora quando voi ritirate quindi avete fatto questa operazione di ritiro lui ha chiuso le verifiche si accende il pulsante risultati ecco cliccando sul tasto risultati voi vedete quali sono i risultati di tutta la classe verifica per verifica in questo caso in questo livello io ne ho fatte due questa è andata molto bene ma tanti non hanno fatto la consegna questa è andata già così così nel senso che qui vedete una torta all'interno della classe che vi dice che il 50% è rimasto sopra il 7 ok il 44% è borderline tra i 5 e il 7 e poi c'è un 4% che è andato davvero male sotto questa torta che vi dice come è andata la classe c'è un dato che vi dice come è andata la classe rispetto alla media nazionale ora è difficile trovare una classe che abbia gli stessi elementi in verifica che avete voi mentre è molto più semplice qui ci sono per esempio soltanto due classi campioni ok perché noi per fare un campione dobbiamo darvi esattamente una classe che ha le stesse unità in verifica mentre nel caso delle versioni ok voi avete 10 20 100 campioni per volta perché ovviamente il test invece è uno solo e si dà uguale per tutti sotto la verifica cioè sotto questi due schemi c'è la correzione domanda per domanda cioè qui a differenza delle unità la cosa fondamentale non è più come dire una correzione a campioni ma una correzione domanda per domanda molto analitica è puntuale lui però vi aiuta in qualche modo a fare più veloce come dire andare non dico di fretta ma comunque andare a a scremare tutte le domande che vedete hanno questa barretta in verde vuol dire che sono domande che hanno sostanzialmente sono state sostanzialmente corrette cioè sono domande dove la maggior parte della classe ha risposto correttamente ok mentre se io vado giù ovviamente le domande in giallo vuol dire che avremo la metà della classe che ha risposto correttamente e la metà che non ha risposto bene oppure potremmo avere le domande in rosso dove addirittura la maggior parte della classe ha risposto male o non ha risposto insomma come doveva rispondere ovviamente io posso sapere chi ha risposto che cosa certo se io apro la mia la mia la mia bandina lui mi dirà chi ha risposto correttamente e chi ha dato tante altre risposte e vedete la cosa interessante poi nell'analisi della correzione non è guardare tutte le domande ma è guardare le domande che sono andate peggio e concentrarsi tutto sommato sulle domande dove c'è stata una concentrazione mettiamola così di errori sullo stesso errore gli errori così tipici quindi la verifica vi permette di dicendo appunto non una volta a settimana ma una volta al mese ogni volta a due settimane di avere un dispaccio analitico ma di puntare su quelle che poi sono state effettivamente le difficoltà se come diceva la collega prima le verifiche vi risultano essere fatte troppo bene ecco cioè con risultati troppo contanti dalla classe secondo me il consiglio è quello di ridurre il tempo o di aumentare le domande o di ridurre il tempo per i nostri dati in realtà quelli che abbiamo a nostre mani considerando che in realtà le verifiche vengono fatte 9 su 10 in classe in genere non è così tutt'altro cioè le verifiche sono abbastanza temute perché in quei tempi lì rispondere correttamente se non sei più che allenato potrebbe essere questa è una classe di liceo classico che ha dato risultati che ha risultati molto alti ecco però mediamente non è sempre così anche tutt'altro però io direi che è un strumento che in qualche modo va tarato su quella che è la vostra classe io vi chiederei un minuto di pausa e un secondo che vado solo un secondo in bagno e poi ritorno da voi scuovatemi solo un secondo nell'attesa vi ricordo intanto quanto già detto in chat il link alla registrazione sarà disponibile nelle vostre aree personali nella sezione webinar del portale Lesher per la formazione entro tre giorni lavorativi dalla diretta nella stessa nella stessa sezione troverete anche l'attestato conclusivo del webinar e vi ricordo anche l'appuntamento del 3 aprile sempre sulla sulla piattaforma Itaca Academy vi lascio il link in chat ecco mi scusate ma allora c'è ancora un modulo che è quello delle versioni in realtà le versioni si comportano in maniera ibrida da un certo punto di vista funzionano come l'unità perché io ho un feedback in tempo reale e quindi meno male io so sempre dal punto di vista formativo se sto sbagliando o no non si comportano come le verifiche però dall'altro punto di vista quello della reportistica in questo caso le versioni sono a tutti gli effetti uguali alle verifiche quindi io avendo un testo che è uguale per tutti ho domande che sono uguali per tutti ora io vi direi facciamo una pausa ancora un secondo se ci sono le domande per le verifiche poi passiamo alle alle versioni e poi se ci fosse qualcuno e io qui chiederei che vuole vedere anche le prove per competenza che riguardano invece la parte del triennio e lì c'è facciamo poi una parte che è dedicata alle prove per competenza le prove per competenza sono erano pensate sono pensate per la preparazione alla certificazione come sapete la certificazione è stata bloccata perché chiaramente non ci sono gli estremi per poter fare una certificazione in questo momento in Italia il che non vuol dire che queste tipologie di prove non possono servire per la valutazione sia in questo caso come le prove di competenza di tipo formativo se vuole dare una volta all'altra sia di tipo sommativo se vuole usarle per fare una verifica vera e propria con una classe del triennio quindi io non so ti chiederei a questo punto Anna Chiara se ci sono altre domande che magari possono ancora riguardare le verifiche o comunque come fare la valutazione in questo momento e poi passerei alle versioni dimmi tu sì allora ti riporto alcune domande sempre riferito al una domanda riferita al punteggio XP di Raffaella che chiede quando si usa Alatin o Itaca per due anni consecutivi e le percentuali medie di errore le percentuali medie di errore procedono da un anno all'altro o si azzerano oppure è possibile scorporare punteggi di un anno da quello del successivo ok ok perfetto e poi una domanda o questa o questa soltanto ce ne sono altre dunque un'altra Caterina chiede se è possibile se lei volesse assegnare una versione e non una batteria di esercizi come può procedere ok questo possiamo vedere in realtà dopo con le versioni ok e poi è arrivata una domanda di Cristina che chiede mi interessa sapere se posso fare una verifica differenziata per DSA per esempio programmando tempi differenti e osili risponderei a queste tre domande intanto perfetto ok allora la principale degli errori di anno in anno piuttosto che tutte insieme in realtà per come è concepito l'acquagnimento per padronanza io non a zero la padronanza di anni in anno cioè si suppone che io continui da quella precedente però un conto è la padronanza e quindi tutto sommato la mia percentuale degli errori sugli argomenti che ho già svolto e un conto è la valutazione mi spiego quando abbiamo introdotto il modulo di valutazione quello che vi facevo vedere prima ve lo faccio rivedere così vi rimpresco un attimo la memoria prendiamo la classe di prima dove ho già fatto questa valutazione quando io vado a prendere questo questo l'ultima parte del registro io cosa faccio? faccio una fotografia cioè mentre tutto sommato i punti e le percentuali che riguardano la singola unità rimangono come dire fermi quindi io potrò continuare a partire da lì la valutazione è una fotografia in qualche modo cioè è un momento in cui io fotografo sostanzialmente la mia situazione e per esempio da un quadrimestre all'altro o anche in questo caso da una settimana all'altra da un mese all'altro quello che voglio posso andare a vedere di fare delle soluzioni di continuità di operare delle soluzioni di continuità cioè mentre un tempo prima che inserissimo questo elemento parliamo dell'anno scorso soltanto si faceva una valutazione che era sempre in qualche modo sinottica di tutto il lavoro fatto fino a quel momento questo per le unità perché chiaramente invece le verifiche erano già in decimi le versioni erano già in decimi ma per le unità non c'era una soluzione di continuità per da quest'anno in poi con questo strumento è possibile fare delle fotografie io posso eventualmente fare una cosa che non è immediata ma vi spiego perché secondo me è interessante cioè posso dire ai ragazzi benissimo per la fine del mese facciamo una valutazione sulle unità di questo mese che sono mettiamo 10 unità e faccio la valutazione se vedo che in queste 10 unità questi ragazzi sono andati molto male quindi io clicco sulla declinazione in questo caso e vedo che qui al posto di 8 e 9 ci sono 4 e 5 io posso anche dire a loro un'altra cosa è difficile che tutti quanti abbiano 4 o 5 chiaramente però ci sarà qualcuno sicuramente che invece ha fatto 5 unità nel peggiore dei modi possibili allora che cosa farò? dirò bene a questo punto la valutazione è andata particolarmente male vi comincero di rifare la valutazione tra due settimane allora che cosa possono fare? loro possono riprendere le unità che hanno già svolto hanno già completato e provare a rifarle però attenzione quando rifanno un'unità quando gli studenti fanno un'unità lui cioè Atin sa chi è il singolo studente e quindi sa che gli esercizi che ha fatto la prima volta non gli deve chiudare genera altri ora si suppone che nel momento in cui io abbia completato un'unità un minimo in più di padronanza di quell'argomento ce l'abbia quindi la seconda volta si suppone che lo faccia meglio della prima questa è una cosa che i ragazzi fanno per esempio prima di prepararsi a un compagno in classe cioè ripassano su Atin a quel punto allora il rischio pericolo è ovvio ma si pensa appunto che lo facciano con un minimo in più di condizionare di causa è probabile anzi insomma è possibile anche probabile che come dire la valutazione salga perché? perché io sarò un pochino più rodato su quella unità e posso diminuire la mia percentuale degli errori quindi a quel punto io posso fare una seconda cancellerò come in questo caso cancello la valutazione ok ne avrò nel frattempo me la posso essere salvata per esempio in pdf e ne farò un'altra sulla stessa unità anche eventualmente e faccio un confronto tra le due valutazioni in ogni caso la valutazione permette di fare una fotografia permette di come dire di fare un'istantanea di quel momento e di capire a distanza di settimane piuttosto che di mesi o appunto davanti all'altro come è andata noi non azzediamo le percentuali perché in realtà nell'apprendimento per padronanza non ha senso alterare le percentuali significherebbe un po' dire ragazzi vi cancelliamo tutto il lavoro che avete svolto no ha senso piuttosto dirgli io vi faccio una valutazione quindi sappiate che poi la valutazione che conterà sarà quella dopodiché ovviamente se voi facendo come dire tabula rasa sulla valutazione da questo momento in poi vi comporterete meglio su altre unità su quelle successive o addirittura eventualmente sulle stesse ma con una seconda valutazione io ne 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 quello che è sempre bene distinguere è l'aspetto di crescita formativa da quello che è la come dire scanazione la soluzione di continuità della valutazione questo strumento più valuta serve a questo scopo fa delle fotografie e vi dà l'archivio di queste fotografie perché come dicevo prima a tutti gli effetti potrebbe essere anche un documento da presentare al dirigente a rappresentare al consiglio di classe o al collegio di le versioni così veniamo veniamo anzi prima facciamo una parentesi sulle verifiche differenziate così poi possiamo parlare delle versioni per i VSA la cosa migliore è chiedere in assistenza la creazione di un sottogruppo cioè noi vi facciamo un sottogruppo di classe che si chiamerà poniamo prima A sottogruppo o prima A differenziato se poi il titolo lo potete scegliere voi quindi chiaramente mettete quello che volete e potete mettere degli studenti che fanno comunque parte del gruppo classe principale anche in questo sottogruppo in questo modo potete dare a loro oltre a delle verifiche differenziate rispetto a quelle che date al gruppo classe anche delle unità differenziate i sottogruppi per esempio servono per fare i recuperi cioè io posso dare 5 unità a tutti quanti poi so che magari ho una seconda so che ce ne sono alcuni che fanno fatica io a questi mi chiamiamo 3 o 4 3 o 4 3 o 4 persone darò altre 5 unità o magari altre 10 unità di ripasso per quello che ho fatto in precedenza ora questo chiaramente vi consente non dico di andare a due velocità perché l'idea del preparamento è quella di portare avanti la classe in maniera omogenea ma se avete ovviamente dei casi di BEST o di SRA può essere questo può essere questo il caso guardiamo le versioni così rispondo anche alla domanda sulle versioni come vi dicevo le versioni io parto dall'alto le versioni voi le trovate esattamente in calce ai livelli come nel caso delle verifiche sono proprio il pulsante il pulsante a sinistra quindi le versioni sono tarate ovviamente facendo parte di quel modello sui prerequisiti sugli argomenti che voi avete fatto in quel modello non c'è bisogno di dare le unità di tutti gli argomenti per poter dare le versioni è evidente però è un modo per farvi tarare la versione più o meno all'altezza insieme prendiamo per esempio le versioni del livello 4 in questo caso io ne ho avvate 6 vedete che ci sono più o meno 8 indicativamente ce ne sono 4 per ogni missione quindi se il livello è fatto da 2 missioni in questo caso ce ne sono 8 ce ne sono 3 che io ho dato e questa qua che è di verifica che io non ho dato ecco non badate la dicitura verifica qui noi scriviamo verifica perché sul nostro testo ci sono queste versioni qua già come dire con il testo cartaceo mentre queste invece non c'è ma di fatto la versione su Alatin anche anche queste che io ho già dato potete usarla anche come verifica se volete nel senso che comunque sia quello che possono trovare in giro per la rete è il testo ma non potrebbero comunque trovare l'analisi del testo che ci sta dietro ok comunque io queste versioni le ho già date come funziona una versione più o meno come una verifica poi chiaramente non andate a assemblare i pezzi dentro la versione ma è un testo io lo seleziono in questo caso lui mi dice è un testo di 37 domande ok più o meno Cuba ha una quarantina di minuti quindi anche qua le versioni su Alatin non sono dei simulacri di quelle cartacee sono degli allenamenti dei training diciamo che sono preparatori eventualmente alla versione cartacea ma in questo frangente in questo momento potrebbero essere molto utili perché ovviamente adesso come adesso da una versione cartacea di compito è piuttosto difficile senza pensare che si mettono a copiare qualcosa immaginiamo di fare un giro su questa versione e di provarla come vedete il testo è un testo in questo caso non molto difficile è un testo abbastanza semplice però viene scandito in periodi non è che facciamo questa cosa per facilitarli la scansione in periodi in realtà la tipografia latina come sapete è arbitraria cioè è un frutto è un frutto filologico e non necessariamente conestato dal testo ma detto questo la scansione in periodi fatta così è semplicemente per permettergli ve lo faccio vedere così di poter fare la versione anche su un telefono quindi siccome ahimè il 70% ormai di nostri utenti entro dal telefono questa scansione gli permette di affrontare i periodi anche sul loro telefono loro possono ovviamente partire da un periodo successivo al primo ma poi in realtà non si fa quello che però ci interessa nella versione e che non si mettono subito a tradurre come voi sapete bene quindi quando io comincio una versione prima di arrivare alla traduzione vera e propria dovrò dimostrare di aver capito qual è la struttura sintattica della frase man mano che io vado a tradurre in questo che è sempre il testo come dire complessivo della versione vedrò intervallati a tutti i periodi le traduzioni le traduzioni o meglio il modello delle versioni che abbiamo usato è quello non so se qualcuno di voi l'abbia mai vista o sicuramente l'abbia mai vista ma sia un appassionato di avia perbia cioè gli avia perbia erano dei testi commentati proprio dell'editorio che avevano il testo come dire anatomizzato in più livelli c'era un livello di essicare un livello sintattico un livello di come dire morfosintassi e infine la traduzione questo permetteva sostanzialmente di andare dentro il testo in maniera molto analitica noi cosa abbiamo fatto abbiamo praticamente trasformato questo modello interlineare in una serie di domande quindi prima di fargli arrivare a tradurre noi chiediamo sempre insomma di dirci che cosa sostanzialmente di frase in frase ovviamente delle cose diverse l'autore sceglierà quelle due tre domande per ogni periodo che servono per capire se lo studente ha capito anche qua quando uno come nel caso delle unità quando uno risponde male qui viene dato un feedback quindi le versioni a differenza delle verifiche le potete dare anche a casa perché? perché evidentemente loro sapranno cosa stanno facendo e qui a differenza delle unità siccome non possiamo dargli altre domande possono riprovare possono riprovare e cercare di meditare un po' meglio se sono bloccati invece ovviamente noi l'errore l'abbiamo già tracciato quindi evidentemente non è che gli stiamo veramente aiutando ma se sono bloccati possono cliccare sul tasto arancione che è il salvagente e il salvagente gli dà la risposta ovviamente se io rispondo male e poi clicco sul salvagente ho perso il punteggio relativo a quella domanda se io clicco sul salvagente prima di rispondere è come se comunque io avessi abdicato quindi il punteggio di quella domanda mi verrà tolto quanto togliamo? ecco come vengono valutate le versioni? dipende dal numero di domande immaginiamo di avere una versione di 30 domande che sono distribuite tra analisi e traduzione più o meno immaginate un 60% di analisi un 40% di traduzione noi avremo ogni domanda che vale all'incirca 0,3 quindi se loro fanno tre errori se loro fanno tre domande non prenderanno sette prenderanno nove però è chiaro che non puoi anche avendo eventualmente la traduzione davanti non puoi come dire andare avanti senza affrontare il discorso grammaticale senza affrontare il discorso analitico ed è per questo che sono piuttosto apprezzate certo occhio perché se voi le date da una volta all'altra e in quel senso le date da valutare è probabile che in questo periodo nella fattispecie i ragazzi si passino tra di loro le facciano insieme che non è un brutto esercizio ma comunque insomma può avere più valore che ha invece se volete darle come esercizio sommativo quindi se volete effettivamente usarle come verifiche anche qua farete esattamente quello che fate per le verifiche delle proprie quindi dite ragazzi guardate che la versione la apriamo alle 10-5 gli darete il tempo che lui appunto vi ha stimato forse anche qualcosa in meno qualcosa in più in base dei risultati che avete e poi lo devono consegnare come fanno a consegnare? e niente vanno alla fine della versione e cliccano su consegne quindi non importa che abbiamo fatto tutta la versione può darsi che in quel tempo loro riusciano a fare tutto può darsi di no importa che però nel momento in cui voi ritirate loro consegne qui c'è una cosa da aggiungere quando voi ritirate che sia una verifica che sia una versione in realtà loro hanno già avuto un risultato cioè immediatamente nel momento in cui loro consegnano sanno già qual è il punteggio non è un voto è un punteggio però è in 10 e dipenderà appunto da quante domande corrette hanno fatto però non bisogna ancora la correzione loro la correzione quando la vedono la vedono quando voi ritirate a quel punto il sistema chiude le versioni o le verifiche e darà a ciascuno la correzione domanda per domanda che voi cioè che il sistema ha fatto ha fatto per voi prendiamo per esempio i risultati di queste versioni che io avevo già dato quando io ritiro a quel punto si accende il tasto risultato in questo caso vedete che la correzione è già andata decisamente in maniera un po' borderline perché abbiamo un 40% appena dei ragazzi che sono sopra i 7 considerato che per noi il 7 è un po' quello che per voi il 6 cioè noi consideriamo il master consideriamo di aver superato quello che per noi è il mastery point con meno di o comunque con fino a il 30% di risposte sbagliate qui abbiamo un 43% di ragazzi che sono tra il 7 e il 10 cioè in questo range però il quasi 40% della classe in realtà è sotto è vero che qualcuno lui lo conta come 6 però sta di fatto che non è riuscito a stare sotto il 30% di risposte corrette qualcuno addirittura è sotto il 5 quindi ancora se vedete qua questo è interessante lo dicevo prima se vado a vedere i campioni nazionali vedrò che qui sono molto più alti perché? perché ci sono molte classi che hanno dato in questo caso questa versione ci sono ben 94 classi che hanno fatto questa versione e qui la mia classe vedete che alla più infine la media non è poi tanto alta perché sì è più alta questa è una classe di liceo classico della media nazionale ma di poco cioè di 0,5 o 4 sotto vedete la correzione anche qua domanda per domanda domanda per domanda dove c'è lo stesso principio che c'era che c'era prima per cui avrò le domande in verde che vanno bene avrò le domande in giallo che sono un i e ci sono domande in rosso che sono andate proprio male e qui di nuovo il principio e andiamo a vedere quanti hanno risposto correttamente in questo caso in 8 e quanti invece hanno fatto lo stesso errore lui vi dice chi sono chiaramente poi questi personali quello che vedono gli studenti sia di una verifica che di una versione è esattamente quello che vedreste voi se cliccaste sul loro nome in questo in questo in questo sistema a quel punto vedete come è nato lo studente rispetto alla classe e rispetto alla media nazionale vedete la sua traduzione mentre chiaramente nelle verifiche la traduzione non c'è ok e poi sotto vedete domanda per domanda ma a questo punto non ci sarà più giallo rosso e verde ci sarà o rosso o verde perché o ha risposto correttamente o punto anche questo è un documento potenzialmente come dire se lo usate in chiave sommativa da stampare quindi si può archiviare e anche questo è uno strumento che come dicevo prima dovete farla voi scegliere noi consigliamo di dare 4-5 unità di alternare un paio di unità con una versione e di fare una verifica ogni tanto se però voi pensate che la verifica per voi se è meglio farla con una versione non c'è alcun problema la tara rispetto al vostro al livello della vostra classe lo vedrete come dire usando un po' di canosalis con i tempi allungo un po' i tempi stringo un po' i tempi eccetera e sempre direi almeno per quello che riguarda le verifiche ma anche nel caso delle versioni facendone una di prova perché è bene che i ragazzi conoscono la razza e sappiano come funziona dove trovate tutto l'elenco delle versioni e delle verifiche ovviamente sempre al solito posto cioè lo trovate sempre dove c'è il menu a ovetto alla voce classi scegliendo la classe voi avrete oltre che l'elenco delle unità ok elenco delle versioni in questo caso tu entri per studente con tutti i voti ok e elenco delle verifiche anche qua tu entri per studente con tutti i voti e vedete che le verifiche non sempre sono andate così bene dipende molto da come stanno fatte a somministrate e infine l'ultimo che abbiamo già visto è quello delle valutazioni badate che in realtà poteste anche fare potenzialmente una valutazione integrata cioè io posso valutare tutto il percorso fatto da ogni anno 5 unità una versione e una verifica come farò andrò su più valuta gli darò un titolo la valutazione di periodo valutazione di periodo e poi metterò dentro comiamo tutte chiaramente in questo momento non ando a caso tutte le unità della seconda metterò dentro delle versioni che posso immaginare se non posso immaginare devo sapere se sono in quel periodo e poi anche eventualmente una verifica quindi io posso pensare di fare una valutazione e poi di creare e lui farà una valutazione mista cioè mettere a te che era dentro tutto quello che è stato fatto in quel periodo cioè le unità completate in quel periodo le versioni fatte in quel periodo ed eventualmente anche la verifica che è stata fatta in quel periodo lui farà una valutazione integrata su chiaramente in questo caso o un argomento quindi un gruppo di argomenti come le lineazioni o il modo indicativo o il congiuntivo o un periodo un mese due settimane direi pochino poche per fare una valutazione di periodo ma potrebbe essere un minestre o un mese o un trimestre eccetera ecco io questo mi fermerei lascerei il tempo che rimane ancora per due domande e poi un'ultimissima parte sulle indicazioni che riguardano la certificazione di questo di questo corso e quindi la chiusura eventualmente poi del corso se avete già usato la macchina nei prossimi nelle prossime settimane se invece la fette usate e dovete ancora usarla si farà chiaramente a giugno quando finirà speriamo che insomma in qualche modo di tornare a scuola Anna Chiara lascio a te la parola se hai ancora delle domande tracciate sì ok allora ci sono state un paio di domande su gli argomenti delle verifiche in particolare Mirella chiede è possibile inserire nella verifica argomenti di unità diverse ad esempio verifica sugli usi dei participi presenti perfetto e futuro che sono scansionati in livelli diversi ok questa è una bene poi un'altra domanda che ho visto ricorrente nella chat come si può assegnare nuovamente qualcosa un'unità o una versione già stata assegnata ok c'è ancora una o sì sì ce ne sono molte in realtà magari magari forse no poi il rischio di andare lunghi sì dovo un'indicazione di massima per tutti ovviamente noi abbiamo un'assistenza molto attiva in questo periodo molto molto attiva perché chiaramente abbiamo avuto un aumento non dico esponenziale ma quasi si potrebbe dire esponenziale altri è cresciuto più o meno tra i 300 e il 400% eroghiamo in questo momento circa 500.000 esercizi al giorno quindi immaginate che cosa vuol dire l'assistenza la curiamo tanto con gli studenti che con i docenti ovviamente quando ci scrivete in assistenza andrete poi a vedere le risposte che vi abbiamo dato lo fanno sempre i docenti o quasi sempre meno gli studenti perché spesso si immagina non so noi li chiamiamo al telefono o cose del genere noi possiamo scrivere lo stesso punto in cui lo ci hanno scritto quindi non mi fidate tanto gli studenti che dicono io ho scritto ma non mi hanno risposto noi abbiamo un sistema di tracciamento caso per caso di ogni singolo ticket quindi nel caso dobbiamo recuperare la storia di chiunque e ovviamente poi la possiamo anche presentare quindi fate loro presente che voi siete in contatto con noi e quindi da questo punto di vista insomma abbiate piena padronanza o comunque state imparando ma in breve potete avere piena padronanza dello strumento queste domande eventualmente se ho oggi il tempo tecnico per rispondervi fatecelo in assistenza ricordatevi però che tutto quello che io in realtà sto dicendo sto riassumendo nei tempi nei tempi che abbiamo voi ce l'avete anche in piattaforma ve lo faccio vedere perché è importante nel menu solito con la alla voce profilo ok voi avete il vostro come dire il vostro 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 che riguarda i vostri dati e c'è una voce che si chiama materiali per il docente dove trovate le guide e sono guidine brevi molto veloci quindi si possono come dire leggere in pochissimo tempo sia per quello che riguarda l'eventuale registrazione dei ragazzi ma a tutti i ragazzi noi attraverso di voi forniamo già un pdf con tutte le istruzioni del caso sia quello che ho detto oggi cioè le unità signazione e monitoraggio le verifiche le versioni e la valutazione cioè tutto quello che vi ho raccontato in questo caso per noi quindi andate a leggere queste cose perché purtroppo la tentazione è quella di cominciare subito però non sempre poi si riesce effettivamente a ci sono anche due guide video quindi se volete non leggervi la parte potete almeno guardarvi queste video guide sono due guide di un quarto d'ora l'una che però sono polarizzate su questo periodo in particolare cioè su come usare la macchina in questo periodo con le versioni con le verifiche e con le unità rispondo a queste due domande velocemente posso dare una verifica su argomenti che appartengono a gli diversi certo puoi dare due verifiche cioè puoi accendere entrambe le verifiche lo stesso giorno dicendo ai ragazzi guardate che dovete fare una verifica venerdì di 50 minuti e che ci sono due punti però quindi sostanzialmente quello che fa la macchina è accendere la verifica non vi preoccupate se gli argomenti stanno in due posti differenti ditelo chiaramente ai ragazzi guardate che la verifica è fatta gli argomenti del livello 5 e gli argomenti del livello 6 perché preferiamo tenere separati i livelli ovviamente per ragioni di tracciamento dei dati se noi riusciamo a capire quali sono le verifiche fatte da una classe in un certo periodo riusciamo a mettere in relazione la votazione che hanno avuto di quel livello con le unità di quel livello quindi è una questione di organizzazione e di pulizia dei dati però in realtà voi potete accendere anche 3 o 4 verifiche è chiaro che poi difficilmente si accendano 3 o 4 verifiche ma se sono verifiche con due unità tipicamente per esempio in questo periodo di ripasso di cose che sono già fatte potete farlo tranquillamente riassegnare ecco occhio perché riassegnare dal punto di vista di una parlanza non significa molto cioè se io ti pongo degli obiettivi e tu li hai raggiunti ok questo vale per una verifica vale cioè verifiche con una versione vale per unità perché l'assegnazione si fa sostanzialmente di queste cose qua ovviamente se tu li hai completati è difficile che io te li possa riassegnare poi posso fare un'altra cosa ok sulle unità che sono il vero lavoro formativo io posso dire ti faccio una valutazione come dicevo prima ora come ora tu hai preso in quell'insieme di unità hai preso comunque una media un punto a voto di media diciamo un 5 se tu queste unità le rifai lui saprà chi sei scarterà gli adattivi che ti ha già dato e te ne ha di altre quindi tu hai la possibilità di mettere la prova e di vedere di migliorare le tue performance ok poi certo non hai detto il tuo rischio e pericolo è che tu ce la faccia o meno questo sì però riassegnare un'unità non ha molto senso perché l'unità non è un compito è un obiettivo quindi sostanzialmente una volta che tu l'hai assegnato e l'hai aperto e i ragazzi l'hanno raggiunto possono migliorarsi ovviamente ma è difficile che come dire ottengano di nuovo come dire il livello minimo quello che noi consideriamo per passare al livello successivo non so se mi sono se mi sono spiegato vorrei dedicare ancora qualche minuto proprio gli ultimi a una cosa che mi chiedono spesso in assistenza e che secondo me è importante cioè un elenco di problemini è una carrellata non può darsi che i problemi che avete trovato o che i ragazzi troveranno non saranno in questa carrellata ma per quello c'è l'assistenza però vi do due dritte su quelli che possono essere problemi più comuni che in genere vengono in particolare a energia in questo periodo dove non avete il contatto deviso con i ragazzi ecco vado su questa pagina qua io l'ho chiamata le FAQ ci sono le FAQ in piattaforma vicino al profilo ci sono anche le FAQ ma non se ne legge nessuno e quindi ci scrivono spesso in assistenza un po' le stesse cose allora cosa devo dire a un studente che non riesce a loggarsi allora se non si riesce a loggare i motivi possono essere sostanzialmente due e soltanto due uno si è dimenticato la password a quel punto c'è un bussante non ricordo più la password noi gli mandiamo un link sulla mail lui cliccherà su questo link e rifarà la password come tutte le piattaforme ok certo che se il ragazzo non va a guardare la password non va a guardare la mail o se questa mail è difficile nello spam lui non controlla nello spam per noi è difficile come dirà la stella di cristallo se non dovesse arrivare la mail o se la password non fosse il problema il problema molto probabilmente è che ha scritto mai la mail in prima battuta poi il telefono per dire si è memorizzato quelle informazioni vado su un pc dove chiaramente non c'è alcun tipo di memoria in questo caso metto la mia mail questa volta corretta e non funziona e come mai non funziona perché? perché la macchina ti ha registrato con una mail che non è quella corretta a quel punto che cosa faccio? niente sul login dove io cerco di loggarmi ma non riesco a loggarmi c'è un bel tasto assistenza dico sono Mario Rossi faccio parte della seconda della professoressa Bianchi vorrei cambiare la mail o vorrei capire qual è il mio problema e l'assistente nell'arco di 8-12 ore intentamente risponde e ti trova una soluzione non fatevi abbindolare da coloro che dicono non riesco a loggarmi e lo dicono per un mese perché non ha nessun senso devono contattare l'assistente e devono risolvere il problema ecco questo praticamente è quello che vi ho detto adesso quali informazioni devo dare l'assistenza perché posso aiutarlo? queste cioè deve dirmi chi è in prima battuta ok deve dirmi a quale scuola appartiene e deve dirmi ovviamente qual è il suo professore qual è la sua classe dopodiché noi 9 su 10 domanda 9 su 100 come faccio ad attivare una nuova classe quello che ho fatto vedere all'inizio con un po' di difficoltà perché mi sono impappinato in modo sostanza faccio un account prima come docente quindi prima mi iscrivo come studente chiedo l'attivazione dell'account docente e chiedo una nuova classe se da docente già rodato con una classe ne voglio chiedere un'altra basta che vada sul tasto di assistenza o addirittura alla pagina classi cioè richiedi una classe compilate il form e dice io voglio la seconda A perché la prima mi sono trovato bene voglio anche la seconda come faccio ad attivare una classe con cui lavoro già su un'altra delle vostre piattaforme io ho una classe su Itaca per esempio e voglio andare su Alting con la stessa classe oppure viceversa allora quel punto è ancora più semplice perché basta che voi facciate una richiesta all'assistenza e noi vi cloniamo la classe sulla nuova piattaforma quindi da quel momento in poi quando vi chiaramente rispondiamo dicendo abbiamo clonato voi e anche i ragazzi potete entrare tranquillamente in tutte e due con le medesime credenziali perché i miei studenti non vedono le mie assignazioni e il motivo unico e vero è che non sono associati alla classe quindi è chiaro che si sono iscritti ma non hanno fatto l'associazione alla classe che sta dentro il pdf che noi vi mandiamo come istruzioni è difficile che loro vedano qualcosa perché non sono dentro voi potete appurarvi di questa cosa andando di nuovo nell'ovetto pagina classi con tutto il listato degli studenti se non compaiono evidentemente non sono associati ma attenzione se invece compaiono vuol dire che ne vedono quindi banalmente gli dici dai un refresh perché per me sei tutto a posto certo può darsi può essere un'eventualità diversa io mi sono associato a una classe poi siccome sono un pasticcione ho fatto un nuovo account e credo di essere ancora dentro ecco dite ai ragazzi che non facciano doppio account se si sono associati a una classe voi cliccando sul nome del ragazzo sul registro di classe vedrete la sua mail quella è la mail con cui si sono associati quindi direte a lui ciccio guarda che ti sei associato con maiorossi gmail.com non con la mail di tuo di tuo papà se vuoi farla cambiare scrivi l'assistenza e metti la nuova mail ma questa è la mail con cui sei associato è possibile che l'applicazione cancelli le lezioni le unità le verifiche che i miei studenti dicono di aver fatto no perché ma banalmente perché questa è una piattaforma in cloud quindi in sostanza qui si sovrascrive tutto se io esco io vi ho fatto vedere prima da un'unità e dentro dentro un'unità esco sempre nell'ultimo punto in cui sono uscito quindi non c'è mai questo avviene per le versioni e avviene per le verifiche non c'è mai il pericolo di perdere quello che sto facendo per il semplice fatto che lui come dire sovrascrive ogni domanda per cui insomma io ho sempre l'ultimo tracciato e questo è importante che loro lo capiscano loro intendo gli studenti perché voi contattandoci potete avere oltre al vostro registro anche il tracciato giorno per giorno i log che hanno fatto quindi se provano a fare i furbi ecco li state subito quello che vedete voi ok esattamente quello che hanno fatto loro se non hanno fatto non hanno fatto non dicono di aver fatto ma non si è registrato l'ultimo è il più importante è possibile che l'assistenza non risponda no è possibile che l'assistenza sia sovraccaricata come in questi giorni ma pensate che in questi giorni comunque sia l'assistenza ha avuto un massimo ritardo la seconda settimana di picco di 72 ore in genere rispondiamo in 24 in 8 ore lavorative quindi in 24 ore concrete magari possiamo arrivare a 16 ore lavorative 2 giorni ma non esiste che non si risponda per giorni interi certo è possibile che i ragazzi non vanno a mettere le risposte che abbiamo dato questo sì però che non diventi una scusa perché in realtà noi abbiamo 3 persone dedicate a fare soltanto quello cioè l'assistenza in questo momento il contenuto è stata bloccata perché c'era un'esplosione di lavoro ma quella tecnica non si blocca mai e quindi è chiaro che su quella tecnica che è fondamentale noi comunque assicuriamo tassativamente dei tempi di risposta di al massimo di un giorno o due giorni e ripeto ultimamente ci mettiamo in grado io ho finito non so se Anna Chiara tu hai ancora delle cose da dire ti riporto dalla chat i complimenti per la chiarezza e per l'esposizione esaustiva non so se vuoi il termine del webinar ormai siamo agli sgocci manco 3 minuti se vuoi salutare la tua volta ai partecipanti vi saluto molto volentieri vi dico anche un'altra cosa che riguarda la certificazione non è necessario che le unità assegnate chiaramente per chi è novizio per chi deve entrare le unità saranno quelle che verranno dal momento in cui diventa docente in poi per chi ha già svolto delle unità su Alati non si preoccupi per noi l'importante ai fini della certificazione come numero di unità assegnate è che voi conosciate la macchina che l'avete provata attivamente e che siate quindi in qualche modo in grado di conoscerne e di valutarne e quindi anche di usarne questo sistema di webinar io vi saluto mi spiace per l'inizio è stato un pochino pasticciato ma ero su un browser che non è il mio solito mi sono un po' impasticciato per ogni cosa noi siamo disponibili con il nostro servizio di assistenza grazie ancora grazie a tutti